Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video di The Last of Us 2 vi spiegherò come aprire questa porta bloccata da un codice che trovate dopo aver sconfitto lo shambler per la prima volta. La porta in questione si apre con un codice che potete reperire su questa lattina. Quindi la prima cosa da fare è distruggere il vetro, prendere la lattina e analizzarla. Però il codice non è completo, dovete risolvere una sorta di enigma che non starò qui a spiegarvi perché vi ammetto che sono andato a tentativi. Poi ho letto effettivamente come si risolveva questo enigma e non ci ho capito poi molto. Quindi alla fine il codice per aprire questa serratura è 15243. Quindi 1, qui cambiate in... Oh scusate, devo ripristinare. Allora, quindi 1, 5, 2, 4, 3. E la porta è aperta.